Circa 100 persone tra cittadini e dipendenti del Comune hanno preso parte questa mattina alla giornata di screening sulle maculopatie promossa dall'assessorato alla salute in collaborazione con l'associazione Cittadinanza Attiva Campania. Una patologia importante che è la maculopatia senile, rivolta essenzialmente ai dipendenti del Comune di Napoli perché è una patologia se presa in tempo, se diagnosticata in tempo, oggi con i farmaci ma anche con gli altri trattamenti disponibili si ha un'efficacia maggiore. Hanno partecipato in tantissimi, sono state fatte più di 100 OCT, 100 controlli. Con il supporto tecnico di Medianova i partecipanti si sono sottoposti ad una visita di controllo effettuata dagli specialisti dell'unità operativa complessa di oculistica del Cardarelli coordinati dal dottor Vincenzo De Angelis. Probabilmente partiremo nel mese di gennaio per un mese di prevenzione alla maculopatia senile. Saranno coinvolte tutte le 10 municipalità e quindi saranno le stesse municipalità che all'interno della casa municipale potranno offrire questo servizio ai tanti cittadini che purtroppo molti di questi oggi rinunciano alle visite e alla prevenzione proprio perché affetti anche da povertà sanitaria. E quindi andremo a programmare nei mesi successivi anche altre prevenzioni rivolte ad altre patologie.